Massimo Mallegni e Maurizio Marchetti, rispettivamente senatore e consigliere regionale di Forza Italia, hanno presentato nella nuova sede provinciale del partito in Viale San Concordio le iniziative sul territorio nazionale in occasione dei 25 anni dalla fondazione del partito di Sivio Berlusconi. Ovviamente i temi principali sono stati incentrati sulla politica nazionale e sulle iniziative del governo targato Lega Movimento 5 Stelle, per le quali l'esponente parlamentare non ha usato mezze misure, specialmente per quanto riguarda le politiche economiche. La Lega è scomparsa dall'agenda economica del governo, l'ultima cosa sulle trivelle è lampante, quello che era sviluppo, lì si parlava di estrazione del gas, le grandi opere, la riduzione delle tasse per le piccole e medie imprese, l'aiuto a chi sta peggio e non l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza, tutto quello che era la politica di centrodestra, che noi speravamo che fosse anche patrimonio della Lega, è scomparso dall'agenda di governo. Toni totalmente diversi per quanto riguarda invece la prossima scadenza elettorale delle amministrative, che vede i partiti di centrodestra, Lega compresa, compatti nel corvergere sui nomi dei candidati nei comuni della provincia, per cui è previsto il ballottaggio, Massarosa e Capannori. E' chiaro che in comuni dove ci sarà il ballottaggio, e qui mi riferisco a Capannori e Massarosa, presenteremo ognuno una lista, i tre partiti presenteranno una lista, dove andremo a scegliere un candidato comune. Questo non più tardi, ecco, delle precedenti ore, eravamo in riunione ancora per valutare i candidati e comunque è un lavoro che va avanti. Ci sono ancora nomi certi? Direi serenamente, ma qualcosa comincia, devo dire, a maturare.